e ragazzoli benvenuti a questo nuovo video in questo video un pochino diverso questo cazzo di video che lo sto registrando per la decima volta dio cane palloso vorrei essere in una chat di simili e spammare palle riesco a pensare adesso e questo guardate come sono come mi sono il coglionito allora questi allora adesso che mi sono nato scaricato un pochino vorrei dirvi una cosa molto importante una cosa che cambia molto il destino del canale il canale metterà di file gaming verrà asfaltato verrà messo in una cazzo di tomba e mi vado a buttare via tutta la mia vita no sto scherzando comunque sto scherzando sto scherzando un pendente mi sul serio a parte si mi smetterà di essere solamente di gaming ma si sarà anche qualcos'altro riferito al parlare di quindi fatti che stanno venendo fatti che sono già accaduti come dire la prima il primo scandalo nella storia di internet il primo scandalo nella storia di youtube cosa è così e poi man mano sempre sempre andare avanti andare avanti perché nessuno me lo vieta nessuno non credo neanche cambi qualcosa sempre aggiungo al mio stesso canale roba nuova poi se poi va in porto pure o molto di più roba del commento e poco del gaming magari li separo se poi alla fine tra con tutte e due insieme dico un po magari poi faccio una specie di sondaggio pure se il canale stesso mi permette di fare adesso posso creare tipo si può posso fare un sondaggio video sondaggio testuale posso far tutto il bello che sono rimasto indietro di tre anni dove tu per pubblicare un post dovevi raggiungere a un detto un vero determinato numero di iscritti molto più alto del mio che adesso è 28 i primi video che usciranno sono video molto più vecchi e questo molto di molto vecchi sto parlando di alcuni video di due mesi fa e alcuni video di un mese fa già registrati si sarà il nuovo logo lughino che per adesso è un solamente una roba niente cioè letteralmente per adesso è il nulla cosmico magari nella registrazione vi farò vedere letteralmente è niente è solamente una stilizzazione di un essere umano e vediamo al prossimo video